Continuano le attività di diffusione della cultura della sicurezza stradale nelle scuole del comprensorio da parte dell'associazione Life Follows, guidata da Daniele Campanelli. Questa mattina all'Istituto Sacco di Sant'Arsenio si è svolto infatti l'incontro dal titolo Occhio alla strada, che ha visto l'intervento del presidente Campanelli ed i rappresentanti delle forze dell'ordine. Tra questi il capitano della compagnia Carabinieri di Sala Consilina Emanuele Corda, la dirigente della Polizia Stradale di Salerno Maria Grazia Papa, l'ispettore della Polstrada di Sala Consilina Rufino Tortora e il dirigente Coa di Sala Consilina Biagio Ferrara. Nel corso dell'incontro è stata ricordata l'ennesima vittima della strada del Vallo di Diano, Michele Sarli, il giovane di Padula, deceduto domenica mattina in un incidente stradale. Infine è stato proiettato il film prodotto dalla Polizia di Stato Young Hyrop.